Canon EOS R100 è un giocattolo o è una fotocamera su cui possiamo fare affidamento anche per delle foto un po' più impegnative? Nel corso del video di oggi vi farò vedere delle fotografie che sono state realizzate con questa macchina, quindi Canon EOS R100 con il 55210. Questa fotocamera fa parte di un kit che mi è stato mandato direttamente da Canon affinché io potessi provarla e dirvi che cosa ne penso. Nel corso di questo video vi faccio appunto vedere delle immagini che ho realizzato durante un servizio fotografico vero. Io mi ero recato presso un'azienda per realizzare le foto che state vedendo e mi ero portato la R6 per fare video e questa per fare un po' di foto e un po' di video. Andiamo a vedere come si è comportata. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi a questo canale cliccando il bottone qui sotto perché ci sono in corso delle serie molto interessanti su questa strumentazione e altre ne seguiranno. Se vi iscrivete subito non andate a perdervi i prossimi aggiornamenti. Un like a questo video e parimenti cosa gradita. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per aziende di vario tipo e oggi ho avuto la fortuna, anzi ieri ho avuto la fortuna, di recarmi presso un'officina dove dovevo realizzare un servizio fotografico e ho pensato bene di portare con me anche Canon EOS R100, una fotocamera che mi è stata appunto inviata così che io potessi provarla, che sto integrando nel mio flusso di lavoro e che qualche soddisfazione ce la fa portare a casa e via diciamocelo perché comunque anche se la macchina è dichiaratamente entry level, anche se non ha una grande potenza di fuoco e ha delle pecche indubbie di cui parleremo, ciò nonostante mi ha permesso di portarmi a casa delle immagini di cui vi dirò sono anche abbastanza contento. Andiamo a vedere nello specifico che cos'è che ha funzionato per me e che cos'è invece che volendo non ha funzionato. Innanzitutto stiamo lavorando con un'ottica molto buia perché quest'ottica, vado a vedere perché non me lo ricordo neanche più, è un f5 trattino 7.1 quindi è un'ottica maledettamente buia e questa è una cosa che a me non fa impazzire perché come filosofia lavorare e cominciare a lavorare sapendo che hai un'ottica buia è una cosa che a me non fa impazzire. Però devo anche dire che per il risultato che abbiamo portato a casa io stavo scattando a ISO 400, anzi tra ISO 100 e ISO 400, quindi devo dire comunque che la luce c'era, la possibilità di scattare e di lavorare bene c'era, per cui in questo caso specifico per me non è stato un vero problema lavorare con un'ottica di questo tipo. Certo fosse stato buio, avessi dovuto scattare a ISO 6400 sarebbe stato un problema sicuramente, ma così non è stato e quindi l'esperienza d'uso non è stata malvagia. Le fotografie che sono state realizzate non sono delle più semplici da fare, nel senso che siamo in un contesto dove bisogna rispettare tutta una serie di regole che non vi sto a dire qui, diciamo che ci vuole della strumentazione fatta in un certo modo. Con un cellulare non sarei riuscito a fare la stessa cosa per esempio, ma per mia fortuna questa è una macchina che dispone della rotella dei modi e quindi io posso andare a impostarla in manuale andando molto nel dettaglio, posso fare esattamente le stesse cose che avrei fatto su una fotocamera professionale, quindi posso andare a decidere tutti i parametri in maniera tale da avere la foto esattamente come la voglio io. Quindi posso andare ad agire sui parametri per ridurre il rumore per esempio, cosa che ho cercato di fare. Siccome so che è un sensore APS-C, una fotocamera entry level, ho cercato di stare più basso possibile sugli ISO e ci sono riuscito anche perché le cose che stavo fotografando in alcuni casi, vedi la saldatrice, avevano un'emissione luminosa molto potente. In altri casi, vedi il flessibile, avevano un'emissione chiaramente meno potente e quindi le foto risultano più scure ma fanno lo stesso il loro effetto. Ora in questo caso particolare ovviamente la buona riuscita delle foto dipende anche e soprattutto dal fatto che l'emissione luminosa viene impressa istantaneamente sul sensore. Quindi nel momento in cui noi vediamo la scintilla, la scintilla viene impressa proprio come se fosse un lampo di una luce flash e questo è un grosso vantaggio quando si lavora in quest'ambito che mi ha permesso di portarmi a casa delle ottime immagini anche scattando, io stavo scattando credo a tra un trentesimo e un sessantesimo di secondo, che per un'ottica lunga come questa è un po' un problema perché è troppo lunga per scattare in questo modo, per cui mi aiutavo appoggiandomi a una parete o utilizzando un monopiede, cose che sicuramente aiutano molto. Per quanto riguarda il risultato finale, devo anche dirvi che il risultato che voi vedete, che ogni tanto faccio passare delle immagini, questo risultato che vedete è post prodotto ovviamente perché trattandosi di un lavoro, lavoro vero, ho scattato in RAW. Sapete che ultimamente sto facendo molti contenuti sul fatto che mi sta piacendo sempre di più scattare in JPEG per determinati motivi, ecco questo no, questo è un caso in cui ho scattato tutto in RAW dall'inizio alla fine perché volevo mettere mano a queste immagini, perché volevo andare a intervenire sulle luci, sulle ombre, togliere un po' di perdita di dettaglio, ripristinare un po' di luci bruciate, scavare un po' di ombre e soprattutto fare un po' di color grading, cosa che è stata fatta quindi le immagini che state vedendo sono post prodotte. Devo dire che il file CR3 che esce da questa macchina non è niente male, cioè non è il file di una miraglia chiaramente, però per quello che deve fare, io ho tirato giù le mie immagini su Photoshop Camera Raw, devo anche fare una premessa, le ho convertite in DNG, le ho convertite in DNG perché la versione di Photoshop che ho installato attualmente non me le faceva leggere, quindi avrei dovuto fare l'aggiornamento, quella che ho sull'altro computer me le avrebbe lette, ma questa non me le leggeva, quindi ho usato Adobe DNG Converter, ho trasformato tutti i CR3 in DNG e così li ho potuti aprire, tranquillamente senza nessun problema. Adobe DNG Converter fra l'altro è un'applicazione gratuita che potete scaricare, vi lascio il link da qualche parte se me lo ricordo, caso mai a qualcuno servisse, quindi se acquistate una fotocamera nuova e magari il vostro software di editing preferito non vi legge i file, potete convertire quei file in DNG e a quel punto li lavorate tranquillamente. I file DNG che io ho aperto su Camera Raw e sono andato a lavorarli, si lasciavano lavorare, quindi se io andavo ad aumentare o diminuire un parametro con tutti i miei dei fader, il file rispondeva piuttosto bene, quindi un conto è dire magari l'immagine non è nitida come su un'ammiraglia con un'ottica di serie L, quello è ovvio, però devo dire che comunque la nitidezza non mi sembra assente, comunque le immagini non mi sembrano riuscite male, mi sembrano delle buone immagini assolutamente presentabili per un lavoro a livello professionale. Ovviamente bisogna sapere che questa macchina ha dei limiti, bisogna sapere che certe cose le possiamo fare e certe altre non le possiamo fare, non riusciremo mai a farle, perché non è pensata per un utilizzo come questo. Io non ci credo che in Canon hanno progettato questa macchina pensando che un giorno io l'avrei usata in un impianto metallurgico per fare cose del genere, non ci credo. È una macchina che è stata pensata per degli utilizzi più semplici. E infatti vi dico, la cosa dove ho avuto più difficoltà e dove però non lo so se macchine più progredite se la sarebbero cavata meglio, è stato mettere a fuoco. Mettere a fuoco perché? Perché nel momento in cui io devo andare a mettere a fuoco una scena buia dove ci sono delle luci come quelle di una saldatrice e la saldatrice emette una luce lampeggiante, tant'è che se noi andiamo a giocare con lo shutter, io ho proprio fatto questa prova, ho registrato un po' di clip video anche con questa macchina, se noi andiamo a giocare con lo shutter e andiamo a usare dei tempi di shutter molto veloci, vediamo la tendina che oscura certe parti dell'immagine, proprio come quando scattiamo con dei tempi di shutter troppo veloci con il flash che non sincronizza nel modo giusto. Quindi questo solo per farvi capire che la luce delle saldatrici e di certe altre macchine che abbiamo fotografato sono luci lampeggianti. Mettere a fuoco con una luce lampeggiante al buio è una cosa molto molto difficile. Per questo motivo tutte, tutte le foto che avete visto oggi io ho messo a fuoco a mano, ho focheggiato a mano come si faceva una volta, quindi guardavo, mettevo a fuoco e poi scattavo le mie foto. Devo dire che anche se una macchina come questa magari non è stata iper performante nella messa a fuoco in un contesto comunque difficile come questo, diciamocela chiaramente, la messa a fuoco non funzionava, non riuscivo ad agganciare la saldatrice, non riuscivo a mettere a fuoco dove volevo io con nessun metodo di messa a fuoco, quindi me la sono giocata a mano. Ma questa macchina dispone del focus picking. Questo cosa significa? Che nel momento in cui io sto focheggiando a mano, sia se guardo nell'oculare, sia se guardo a monitor, ho un indicatore a video di dove sto mettendo a fuoco. In pratica la porzione a fuoco delle immagini si colora di un colore che posso decidere io che di default è il rosso. Attenzione, molte delle cose che io stavo fotografando sono arancioni, le scintille, le cose incandescenti sono arancioni. Quindi mettere a fuoco con un picking rosso, rosso su arancione non vedevo un tubo, ma questa macchina mi permette di cambiare il colore. E quindi io ho potuto impostare focus picking blu e quindi vedevo dove mettevo a fuoco con un indicatore che mi segnalava in blu dove stavo mettendo a fuoco ed ecco che le mie scintille diventavano azzurre quando erano a fuoco, la mia saldatrice diventava azzurra quando la stavo mettendo a fuoco correttamente ed ecco quindi che, semplicemente conoscendo il mezzo, sono riuscito con questa macchinina, la vedete la conosciamo, piccola entry level, proprio il gradino più basso, siamo riusciti a portarci a casa delle immagini che io posso serenamente presentare a un cliente, non gli dico neanche con cosa le ho fatte e il cliente non se ne accorgerà. Per il cliente potrebbero essere state fatte con qualcos'altro, non avrà modo di capirlo perché grosso modo non si vede la differenza. Certo, una miraglia magari mi avrebbe permesso un recupero più profondo delle ombre e delle alte luci, certo, e magari avrebbe messo a fuoco in automatico laddove con questa invece ho fatto un po' più di fatica. Fatica cosa vuol dire? Che ho sbagliato le prime tre, ho fatto secche le prime tre e mi sono reso conto che, ok, con l'automatismo non riesco a mettere a fuoco esattamente dove voglio, benissimo, passiamo in manuale e da lì in poi lavori sereno. Impressioni personali sulla macchina durante l'utilizzo? Allora, la macchina si comporta bene, ha risposto bene, la durata della batteria non è neanche così scarsa, perché comunque ci ho fatto la mezza giornata e la batteria A era ancora lì che aveva ancora una tacca, quindi non ho avuto problemi di batteria, non era la mia unica macchina ovviamente, avevo anche altra roba con me per sicurezza, però non ho avuto bisogno. Ho fatto tutte queste foto che vi ho fatto vedere le ho realizzate tutte con questa e anche parte dei video sono state realizzate sempre con questa, quindi da quel punto di vista non mi posso lamentare. Sicuramente era un lancio controllato, nel senso che sapevo che lavoro stavo facendo, questo era non dico un di più, ma quasi, e quindi ero tranquillo a realizzare un po' delle riprese con questa perché le riprese principali le ho fatte con R6, quindi le totali con il grandangolo, con lo stabilizzatore, le ho fatte con R6, questo volendo era un di più, un di più che però è venuto molto bene, che sicuramente ha dato qualcosa in più all'intero servizio e sono riprese che useremo, quindi da questo punto di vista me la sento di dire che questa macchina non è adatta a tutti i contesti, non la puoi usare per fare qualsiasi cosa, però in molti casi se la sai usare, se sai dove mettere le mani, ti porti a casa un risultato che avresti potuto portarti a casa con una macchina progredita, riesci a portartelo a casa tranquillamente anche con questa, con un po' di limitazioni però come avete visto, se la sai usare le immagini sono precise, pulite, io trovo veramente pochi difetti nell'utilizzo. Non vi dico che andrò ad acquistare io stesso una macchina come questa, ma semplicemente perché io ne ho già delle altre che sono più in alto nella scala gerarchica, quindi avendone già di più forti, per me è abbastanza inutile andare a comprare una macchina come questa, potrei pensare a una R10 o una R50 però perché comunque la performance non mi è dispiaciuta, questo diciamocelo. A questo punto però vi chiedo fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, io credo con questo video di avervi fatto vedere quelle che sono le potenzialità della macchina, vi ho fatto vedere le foto, vi ho fatto vedere la resa, è un contesto, vi ho anche fatto vedere un contesto non facilissimo e avete visto che comunque questa macchina nelle mani giuste te la tira fuori l'immagine anche in un contesto un po' difficile come questo. Se vi vengono in mente altre idee, altre domande, altre cose da chiedermi su questa macchina fatelo adesso finché è in mio possesso così che io possa rispondervi non dico in tempo reale ma quasi, vi lascio spazio come sempre nei commenti, parliamone, vi ricordo di iscrivervi al canale così non vi perdete eventuali aggiornamenti o risposte ai vostri commenti sotto forma di shorts verticali. Amici è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.